Approfittato della quiete di una domenica pomeriggio di luglio per mettere a segno un colpo da oltre 10.000 euro. Nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13, un rapinatore solitario si è presentato come cliente in una sala slot lungo la via Emilia Pavese, a due passi da piazzale Torino a Piacenza, e una volta all'interno ha manifestato le reali intenzioni. Erano da poco passate le 13 quando l'uomo, apparentemente sulla Trentina e di origini nordafricane, armato di pistola e con un passamontagna per coprire il volto, ha intimato alla cassiera presente nel locale di consegnargli il denaro. Un'azione fulminea che non avrebbe avuto altri testimoni oculari vista l'assenza di clienti. La sala però è dotata di telecamere a circuito chiuso che hanno ripreso l'interazione. La cassiera, subito dopo la fuga dell'uomo, ha lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenute diverse squadre della polizia, a lavoro anche gli uomini della scientifica per risalire all'autore del blitz. Trovano la serratura bloccata e quando, grazie all'aiuto dei vigili del fuoco, riescono ad accedere, trovano la casa completamente a su quadro. Nel bottino dei ladri, orologi preziosi per 30.000 euro. È accaduto ieri pomeriggio in via Vitali. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, sembra che un uomo sia entrato nell'abitazione, situata al primo piano, arrampicandosi sulle grondaie, prima di forzare la porta-finestra del balcone affacciato su un cortile interno. Una volta operata l'effrazione, avrebbe aperto la porta d'ingresso con un doppione delle chiavi reperite all'interno, consentendo così l'ingresso dei complici. Ladri scatenati, ieri in città, in strada a Gazzana, è stato forzato il self-service di un distributore di carburante. Le telecamere hanno ripreso in azione due uomini incappucciati. Il bottino è di circa 900 euro.